Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a dare i pronostici probabili soprattutto di questa giornata Serie A parliamo se ne sbaglio della trentesima giornata di Serie A i primi due anticipi si giocheranno stasera abbiamo Sassuolo Spezia alle 18.45 e alle 21 abbiamo Genoa Torino Sassuolo Spezia, se andiamo a guardare soprattutto la classifica di Sassuolo Spezia vediamo soprattutto che Sassuolo è quota decima posizione mentre lo Spezia è quindicesima e sta lottando per la salvezza quindi una partita veramente combattuta dove Sassuolo gioca in casa quindi uno del Sassuolo anche se lo Spezia darà filo alla torce Genoa Torino, io metterei soprattutto un X2 del Torino Torino che deve assolutamente fare punteggio come ha fatto contro l'Inter ha portato un grande pareggio anche se meritava la vittoria quindi il X2 del Torino andiamo, altri tre partite molto importanti si giocano sabato quindi domani alle ore 15 si giocherà Napoli-Dinese mettiamo uno del Napoli, uno dell'Inter contro la Fiorentina anche se la Fiorentina è una squadra veramente brutta da incontrare perché ha dei grandi giocatori di qualità e quindi potrebbe anche dare fastidio all'Inter di Simone Inzaghi Cagliari-Milan deve assolutamente vincere il Milan e continuare la strada verso lo Scudetto quindi due delle Milan io vedo le milanessi vittoriosi in questa giornata quindi uno dell'Inter e due del Milan andiamo alle altre partite iniziamo con Venezia-Sampdoria due della Samp Empoli-Verona gol e gol Juventus-Sanitana 1 perché deve assolutamente vincere il derby Roma-Lazio io vedo un under 2.5 vi ricordo sempre nel passato il derby tra Roma e Lazio sono sempre combattuti quindi vedo un under 2.5 in questa partita Bologna-Atalanta vedo 1-2 quindi vedo anche il Bologna in casa che ha pure un 50% di possibilità di portarsi a casa questa partita e anche l'Atalanta che deve assolutamente recuperare i punti quindi 1-1-2 per quanto riguarda questa partita andiamo se non sbaglio sono 5 partite si 5 partite domenica 3 partite sono sabato e 2 partite sono oggi che sono gli anticipi di questa trentesima giornata di Israel fatemi sapere attraverso i commenti i vostri pronostici e se volete dire la vostra per qualche pronostico che vi sembra un po' rischioso da dare e se secondo voi alcuni pronostici sono non provabili potete commentare attraverso un commento dare le vostre opinioni e io vi risponderò immediatamente iscrivetevi al canale lasciate un like e attivate la campanina per assaggiare sui miei contenuti bella ragazzi